Ciao a tutti, come far funzionare bene una relazione a distanza? Se vuoi far funzionare bene una relazione a distanza devi mantenere alcune caratteristiche fondamentali perché? E devi cercare di utilizzare i vantaggi che ti dà la relazione a distanza rispetto a quelle in cui ti vedi quotidianamente, in cui non c'è distanza la condizione fondamentale affinché una relazione a distanza possa funzionare bene è che non ci sia gelosia perché nel momento in cui esiste la gelosia la relazione a distanza muore istantaneamente quasi la gelosia fa male anche nelle relazioni ravvicinate ma diciamo che nelle relazioni a distanza la gelosia diventa la cosa peggiore che una persona possa avere perché inizia a tormentarsi senza riuscire a fare nulla e anzi aumenta ancora di più perché basta che l'altra persona, che ne so, per qualche motivo non riesce a comunicare che nessuna volta capita che ha il telefono che non prende, che è qualcosa per cui non puoi magari rispondere ai messaggi e l'altra persona resta completamente, diciamo, presa dalla nebbia, la tenaglia della gelosia inizia a pensare alle cose più strane, le cose più turpe quindi diventerebbe un tormento vivere una relazione in questo modo quindi se una persona è gelosa o si fa passare la gelosia o non ha relazione a distanza anzi deve trovarsi una relazione in cui fa lo stesso lavoro, si vedono 24 su 24 così poi finisce per noia ma non per gelosia, diciamo così e questa è la cosa fondamentale, quindi poi è ovvio che ci sono altri ingredienti che possono far funzionare bene una relazione a distanza ad esempio mantenere vivo un po' di, come dire, un po' di gioco erotico per cui utilizzare i mezzi che la tecnologia offre per mantenere vivo il gioco erotico ad esempio fare un po' di sexting, un po' di, che ne so, qualche messaggio, qualcosa qualche foto, qualche qualcosa che possa ogni tanto stuzzicare la fantasia ricreare degli ancoraggi emozionali fondamentalmente e è importante quindi non avendo la quantità puntare molto sulla qualità per cui gli incontri devono essere qualitativamente appaganti e possono esserlo perché si amplifica molto il desiderio nella relazione a distanza al contrario che nella relazione dove ci si vedono tutti i giorni quindi amplificando il desiderio si ha la possibilità di mantenere una buona qualità d'incontro e durante il tempo che non ci si vede si deve anche costruire intimità parlando quindi in una relazione a distanza è importante comunque parlarsi usare il telefono o quello che è insomma per creare comunque un'intimità, una condivisione perché poi questo crea diciamo anche maggiore empatia maggior feeling, maggior riconoscenza è fondamentale insomma e diciamo che l'aspetto positivo proprio della relazione a distanza è questo che non esiste la sua fazione fondamentalmente per cui una relazione può andare avanti anche moltissimo tempo anche tutta la vita diciamo l'importante è avere una progettualità comuna avere un'idea comune insomma cercare di fare le cose in modo tale da stare bene fondamentalmente la cartina torna sole per capire se siamo adatti a questo tipo di relazione sentire come stiamo è ovvio che un po' di desiderio di vederla o di vederlo dà un po' di tormento ma se è contenuto entro certi limiti è un aspetto positivo perché dà comunque alimentazione emotiva quindi seguendo queste regole sarà molto più facile far funzionare bene una relazione a distanza bene per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici ciao